Ciao Dov'è che ci siamo già visti noi? Terapia di gruppo? No Allora mi confondi con qualcun'altra No ma aspetta, ah ecco ci siamo incontrati a Iona No, ma dov'è che ci siamo già visti? Terapia di gruppo Alcolissi anonimi ecco Balliamo? Balliamo Forse era taglio e cucina Mi pare Ma tu sai bevendo po' troppo? E tu? Ragazzi! Vieni bucate! Vieni bucate!